È davvero necessario studiare fashion design in una scuola di moda per diventare stilisti? Ciao a tutti, io sono Sara, sono una fashion designer e in questo canale condivido con voi tutto ciò che so su come disegnare e realizzare abiti. Nel video di oggi in particolare vorrei rispondere a una domanda che mi è stata chiesta più volte. È davvero necessario studiare fashion design in una scuola di moda per diventare stilista o è possibile imparare la professione da autodidatta. Cosa si impara e cosa non si impara nelle scuole di moda? E partirei proprio da quest'ultimo punto perché per capire se ha senso studiare per degli anni in una scuola di moda è necessario prima comprendere che cosa queste scuole e questi corsi offrono nella pratica e quali sono le skill che effettivamente si apprendono. Specifico subito che in questo video quando parlo di scuole di moda mi riferisco alle classiche scuole post diploma, private e anche non, che un po' tutti conosciamo. Vi dico giusto qualche nome per farvi capire. Marangoni, Polimoda e Yed in Italia, Central Saint Martin, London College of Fashion a Londra e FIT e Parsons a New York. E ovviamente ne esistono tante altre ma è giusto per farvi capire di cosa parliamo. Io ho frequentato una di queste scuole, nello specifico ho fatto un corso di fashion design della durata di quattro anni al Polimoda di Firenze e quindi anche in questo video preferisco parlare di ciò che conosco e di ciò che ho visto con i miei occhi e ho potuto provare. Alla fine del video comunque vi parlerò un po' anche delle scuole di moda professionali post diploma che senz'altro possono essere utili anche quelle in base agli obiettivi personali che uno vuole raggiungere. Ma andiamo subito nel cuore del video. Cosa si impara nelle scuole di moda? Di solito queste scuole di moda post diploma offrono svariati tipi di corsi lunghi della durata di tre o quattro anni in vari ambiti. Nello specifico in questo video mi riferirò solo ai corsi di fashion design che sono quelli che sono pensati apposta per formare le figure di fashion designer o stilista che è la stessa cosa. Tipicamente in questi corsi vengono insegnate tutta una serie di conoscenze e competenze che servono per formare uno stilista a tutto tondo quindi il disegno, la progettazione di collezioni, il processo creativo per passare da un'idea a un abito, il cucito, la modellistica, il drappeggio, nonché anche delle conoscenze di marketing, storia del costume e conoscenza dei tessuti. E probabilmente ce ne sono anche altre ma queste diciamo sono un po' le principali. Insomma a livello di competenze si impara veramente tanto e questo secondo me è un punto che va a vantaggio dello studiare in una scuola di moda perché sei immerso in un percorso che ti forma a 360 gradi, ti vengono insegnate tutta una serie di materie che all'apparenza potrebbero sembrare superflue per la mera professione dello stilista che uno si può immaginare però poi ti servono in modo trasversale quando lavori. Ti danno quel livello di professionalità e conoscenze in più che ti rendono uno stilista più completo e più efficace nel creare collezioni in generale. Difficilmente uno si mette ad imparare da autodidatta tutte queste materie perché sono tante e uno magari neanche sa che esistono. Vi faccio un esempio. Io ho fatto per quattro anni maglieria quindi non solo disegno di maglieria ma anche crearla proprio quindi sia a mano con uncinetto e ferri sia con le macchine manuali da maglieria quindi smacchinare e creare proprio i teli di maglieria o i pezzi sagomati per poi rimagliarli quindi unirli e creare un capo intero di maglia. Non era proprio il mio perché non ero bravissima però diciamo che ora sono molto contenta di avere queste skill. Mi sento una designer più completa e se fosse necessario potrei anche disegnare delle collezioni di maglieria. Ovviamente poi con la pratica lavoro uno migliore ancora di più e colma le proprie lacune però ho una base solida per poter iniziare a farlo. E per dirvi ho avuto dei compagni di classe che poi hanno focalizzato sia la loro carriera scolastica che lavorativa in seguito proprio sulla maglieria. Se non avessero avuto modo di provarla e testarla a scuola non è detto che da soli avrebbero scoperto che quella era la loro strada. Ma prima di questo la cosa più importante che secondo me le scuole di moda danno è una forma mentis diversa e un metodo di lavoro. Mi spiego queste scuole sono veramente toste, la competizione è alta, i compiti richiesti sono molti e da svolgere in poco tempo, i professori sono abituati a livelli di creatività elevata e ti spingono a raggiungerla. Tutto questo fa sì che le migliori capacità che si acquisiscono dopo 3-4 anni in queste scuole sono la tenacia, la capacità di spingersi oltre i propri limiti che all'inizio probabilmente neanche sai di avere, neanche sai di poter raggiungere quei livelli, uscire dalla propria comfort zone costantemente e quindi di fatto imparare a superarsi e migliorarsi in continuo. Oltre a questo ci sono degli altri elementi importanti che si hanno in più nell'imparare in una scuola di moda rispetto all'autodidatta, il confronto con i professori. Ci sono sempre delle eccezioni, non voglio dire che ovunque sia così, ma almeno per me è stato così. In queste scuole i prof sono bravi e sono allenati a far sì che lo studente superi se stesso e si migliori in continuo, criticano il tuo lavoro spesso ma stanno al tuo fianco per spiegarti come e dove migliorare. Questo costante confronto è importantissimo per migliorarsi sempre più, per avere un alto livello di apprendimento e per conoscere meglio se stessi come stilisti, per arrivare a trovare la propria strada. Questo confronto è molto più difficile averlo se si impara ad autodidatta perché non hai una persona che ti controlla, che ti critica e che cerca di farti migliorare e quindi è necessario, non dico che sia impossibile, ma è necessario un livello di autodisciplina altissimo per imporsi gli stessi standard. E ci sono anche delle soft skills che si imparano studiando quattro anni in una scuola di moda. Primo fra tutti il lavoro in team perché spesso vengono dati dei compiti che sono da realizzare in gruppo e quindi necessariamente impari anche a dividerti il lavoro con gli altri, fare affidamento sugli altri e tutte queste cose che poi in azienda devi per forza mettere in pratica. E cosa ancora più importante, il lavorare sotto pressione perché come vi dicevo i compiti che vengono dati sono tantissimi, velocissimi e quindi bisogna essere sempre sul pezzo e creare cose velocemente. Una delle competenze che ho apprezzato di più in assoluto da questa scuola è l'imparare un metodo per portare una fonte di ispirazione in un abito, quindi di fatto come trasformare un'ispirazione in un abito. E questa è una cosa che credo sia difficile imparare da soli, si può e per carità nulla è impossibile con la giusta determinazione, con gli strumenti giusti, le risorse giuste, però è proprio qui che credo che l'aiuto degli insegnanti e la direzione che mi hanno dato sia stata veramente utile. E questa è giustamente anche una delle competenze più importanti che promettono questi corsi di fashion design. Qualsiasi scuola scegliate cercate di capire in anticipo come viene insegnata questa materia fashion design in quella scuola, quanto questa scuola spinge sulla creatività e quanto invece è più di stampo commerciale, passatemi il termine. Per quanto sia importante nel mondo del lavoro creare delle collezioni vendibili, finché sia a scuola a mio parere è importante essere il più creativi possibile e avere la possibilità di farlo soprattutto, così da arrivare a conoscersi appieno come stilisti, è una cosa che poi nel mondo del lavoro non avrete più la possibilità di fare, quindi fatelo finché siete a scuola. Ma servono davvero tutte queste competenze per lavorare nel mondo della moda? Ecco, questa è la domandona e la risposta è no, o meglio, dipende da qual è il vostro obiettivo. Volete diventare stilisti per fare che cosa? Secondo me qui si aprono tre scenari. Per lavorare in una grande maison di quelle che chiunque conosce anche vostra nonna? O magari non avete grosse pretese, vi basta lavorare nel mondo della moda in un'azienda che non necessariamente deve essere grande, non necessariamente deve essere conosciuta o famosa, l'importante è essere stilisti e poter fare questa professione. O c'è anche una terza opzione, non vi interessa per nulla lavorare per qualcun altro, il vostro sogno nel cassetto è quello di aprire un vostro brand di abbigliamento. Partiamo dal primo caso. Di solito le aziende grandi e famose richiedono che abbiate fatto un certo percorso di studi in una delle scuole più conosciute. Come potete immaginare queste aziende hanno una richiesta altissima di persone che vogliono andare a lavorare per loro e quindi dal loro punto di vista richiedere un certo percorso scolastico è un modo per fare una prima scrematura. Quindi mi sento di dire che se questo è il vostro obiettivo, scegliere una scuola di moda abbastanza conosciuta è un requisito piuttosto importante. Detto ciò, queste aziende oltre al curriculum richiedono sempre un portfolio dei propri lavori fatti. Quindi se non avete fatto una scuola prestigiosa ciò che dovete assolutamente fare è lavorare sul vostro portfolio che deve essere spaziale e deve competere con studenti usciti da scuole prestigiose. Concentratevi quindi a creare un portfolio che sia d'impatto, che sia memorabile e che mostri bene le competenze che avete appreso. Seconda casistica, vi basta lavorare come stilista nel mondo della moda, non importa se in un'azienda grande o piccola. Qui mi sento di potervi dire che non è necessaria una chissà quale formazione o laurea. Di solito le aziende meno conosciute o più piccole preferiscono le competenze pratiche al pezzo di carta. Quindi preferiscono assumere una persona che ha tante competenze tecniche e pratiche ma magari non esce da una scuola prestigiosa piuttosto che uno che esce da una scuola prestigiosa magari ha anche un portfolio fighissimo ma poi di fatto è addirittura ultra qualificato per quel lavoro. O magari non sa dimostrare bene quali sono le proprie capacità che sono effettivamente utili all'azienda. Per lavorare in un'azienda più piccola, meno famosa e più commerciale mi sento di poter dire che possono bastare dei corsi professionali mirati ad imparare delle specifiche competenze tecniche che poi le aziende richiedono. Tipo il disegno di figurini sia a mano, nonostante ormai non venga più tanto usato però è importante saper disegnare, sia al computer utilizzando programmi come ad esempio Photoshop e Illustrator. E poi una cosa super richiesta è imparare a realizzare delle schede tecniche dei prodotti. E questa competenza tecnica specifica è una cosa che spesso e volentieri non viene neanche insegnata nelle scuole di moda più prestigiose che appunto come vi dicevo prima si focalizzano di più sulla creatività che sulle competenze di questo tipo. E invece questa è una cosa che è molto più facile che venga insegnata nelle scuole di moda professionali, che sono anche meno costose e molto più diffuse sul territorio. Essendo competenze più specifiche è anche più facile impararle da autodidatta seguendo per esempio dei corsi online o video YouTube o su dei libri. Terza casistica, volete creare il vostro brand di abbigliamento. Questo è il caso più interessante e a cui è più difficile rispondere. Se vi costruite il vostro brand a zero ovviamente non dovete nulla a nessuno, come dire non c'è necessità di mostrare un foglio di carta a qualcuno. D'altro canto però sono necessarie tutta una serie di competenze e di soft skills che più facilmente si imparano in una scuola di moda di alto livello. Mio modesto parere personale ritengo che sia importante arrivare ad avere una propria identità creativa come stilista e un proprio personale punto di vista maturo prima di avventurarsi in un'esperienza del genere. Se non altro per offrire al mondo dei prodotti interessanti che siano frutto della propria creatività e non copia di qualcos'altro che già esiste. Tutte cose su cui una scuola di moda ti forma. Detto ciò lo spettro di cose che si possono creare con un proprio brand di abbigliamento è ampissimo. Si può avere un'idea per un prodotto geniale che venderà tanto anche senza aver studiato assiduamente fashion design. E poi si possono trovare degli aiutanti e dei collaboratori che ci aiutino a mettere l'idea in pratica e che in qualche modo colmino le lacune su alcune competenze che magari non abbiamo potuto imparare a scuola. Banalmente avete magari fatto una scuola che si è focalizzata tanto sul disegno, sul lato creativo, sul creare collezioni ma pochissimo sulla modellistica e il cucito? Beh probabilmente assumerete una modellista e una sarta per aiutarvi con il vostro brand. Anche qui per esempio se uno ha già un'idea ben specifica di un brand che vuole sviluppare o di un prodotto può benissimo scegliere di formarsi da autodidatta solo studiando le materie che sa che gli serviranno, evitando di perdere tempo passato il termine su materie inutili al suo scopo o comunque inutili per formare quel brand specifico o sviluppare quel prodotto specifico. Quindi per questa terza casistica secondo me dipende. Una scuola di moda offre tutta una serie di competenze secondo me utilissime per avviare un brand ma non sempre è necessario farla e dipende dal brand specifico che si vuole avviare. C'è un problema noto con le scuole di moda prestigiose che tendenzialmente costano molto e i loro prezzi aumentano di anno in anno e giustamente non tutti possono permettersele quindi vorrei parlare un attimo di quali possono essere le alternative. Una valida opzione sono le università quindi scuole pubbliche che hanno prezzi molto più accessibili rispetto alle scuole di cui parlavo prima. Ci sono università che offrono corsi di fashion design che hanno gli stessi prezzi di tutti gli altri corsi di laurea. Il vantaggio è che si ottiene una laurea vera e propria e non un diploma quindi anche meglio se volete rispetto alle scuole di prima e comunque si affrontano tutta una serie di materie inerenti alla professione dello stilista. I lati negativi che trovo è che essendo per corsi accademici ci sono tante più materie teoriche rispetto alle scuole private che nominavo prima con la conseguenza che le ore in cui si svolgono attività pratiche o progetti pratici sono meno. Qui ovviamente dipende anche da quali sono i propri obiettivi e le proprie aspirazioni e che cosa si vuole imparare da una scuola di moda. Non a tutti interessa creare degli abiti strepitosi con le proprie mani, c'è chi semplicemente vuole pensare e ideare le collezioni, giustamente, e tendenzialmente nelle università il numero di studenti è più alto, non sempre ma di solito è così, e quindi necessariamente si è un po' meno seguiti rispetto alle scuole private. Però insomma chiariamoci, è un'alternativa più che valida. E prima vi nominavo anche le scuole di moda professionali, vorrei spendere giusto due parole anche su queste. Queste sono scuole post diploma, meno famose, più piccole e di solito sono sparse un po' in tutto il territorio nazionale. Di solito hanno vari percorsi formativi di vario tipo, più lunghi, più corti in termini di tempo, più focalizzati su alcune materie o altre, veramente qui dipende dalla scuola. Lato positivo è che di solito i prezzi sono molto più bassi rispetto alle scuole più famose. E queste sono ottime, come vi dicevo, se il vostro obiettivo è semplicemente lavorare nel mondo della moda come stilista e quel che vi interessa è imparare le competenze tecniche che poi vi verranno richieste nel mondo del lavoro. Sono anche percorsi più brevi, spesso e volentieri, e che possono occupare semplicemente qualche giorno a settimana o delle ore. Quindi possono essere perfetti se nel mentre volete lavorare. Sono ottime queste scuole anche se avete già delle competenze nel settore e magari vi basta acquisirne altre per completezza. Faccio un esempio, avete già una formazione da designer ma volete acquisire anche delle competenze in modellistica e cucito. Se pensate che questa possa essere la vostra soluzione vi consiglio di cercare nella vostra provincia e in quelle attorno quali scuole esistono e che corsi offrono. Ogni scuola è diversa quindi non riesco a darvi un consiglio specifico su questo, però quello che potete fare è valutare in anticipo quali competenze volete acquisire e trovare una scuola e un corso specifico in questa scuola che vi aiuti a arrivare a quell'obiettivo. Una cosa importantissima, scegliete con la vostra testa. In questo video ho condiviso il mio punto di vista di una persona che ha studiato quattro anni fashion design e poi ha lavorato sei anni nel settore come fashion designer. Ci sono eccezioni a quello che ho detto, non sono regole scritte col fuoco. Sono piuttosto impressioni che ho sviluppato nei miei anni di esperienza e confrontandomi con altre persone del settore. Scegliete con la vostra testa perché per affrontare questa carriera serve tanta determinazione, tanta passione che dovete trovare dentro di voi, non negli altri. Dovete essere voi convinti prima di chiunque altro della scuola che scegliete. Io spero che questo video vi sia stato utile, se sì lasciate un mi piace, fatemi tutte le domande che volete nei commenti qui sotto al video e se volete saperne qualcosa in più sul percorso specifico che ho fatto io per diventare stilista vi invito a vedere questo video qui dove parlo di tutto il mio percorso scolastico e professionale in dettaglio. E ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!